Ragusa e Politano salutano definitivamente il Pescara, Caprari resta in rival adriatico e questo l'esito dell'ultima giornata disponibile per definire le comproprietà. Quella con il Genoa di Antonino Ragusa si è risolta poco prima delle ore 19, termine fissato per riscattare i cartellini. La trattativa col presidente Genoano Preziosi è stata lunga ma alla fine il Delfino ha spuntato 700.000 euro per l'attaccante di origine siciliana. Per Matteo Politano e Gianluca Caprari il verdetto è stato rinviato alle buste, il Pescara perde Politano per soli 1.000 euro, la Roma ha presentato un'offerta di 601.000 euro contro i 600.000 del Pescara. Politano sarà girato ancora in prestito al Sassuolo e potrà così debuttare nella massima serie. Caprari è stato riscattato dal Pescara per 125.000 euro, nessuna offerta dalla Roma. Nessuna busta è stata presentata per il giovane difensore Marco Vittiglio che era in comproprietà con la Virtus Sentella e resta con la Società Ligure titolare del cartellino. Perfezionate le comproprietà e il passaggio alla Sampdoria di Torreira, che comunque anche il prossimo anno resterà in Biancazzurri in prestito, ammonta a 5.500.000 euro il tesoretto accumulato dal Delfino con le varie operazioni in entrata. Ed ancora vanno definite le cessioni di Biarrason e Memushai, altri tasselli pregiati che porteranno ulteriori liquidità nelle casse sociali. Ora il presidente Sebastiani e i direttori Repetto e Pavone possono concentrarsi anche sul fronte delle entrate. Come detto, anche nei giorni scorsi i nomi più caldi sono quelli dell'attaccante del Brescia, Daniele Corvia, e di Gianluca Lapadula, trascinatore del Teramo lo scorso anno e che si sta liberando dal Parma, appena dichiarato fallito. Sul fronte attacco non è da scartare l'ipotesi Matteo Ardemagni, che potrebbe finire nell'operazione che manderebbe Biarrason all'Atalanta. La stessa operazione potrebbe portare a pescare il difensore giugliese Cristiano Del Grosso, anche se nello stesso ruolo è sbucato nelle ultime ore il nome di Marcello Gazzola del Sassuolo. Sul fronte Virtus Lanciano dà l'addio ai frentani Mame Babatiam. L'attaccante senegalese è stato riscattato dalla Juventus, che lo manderà in Portogallo al Belenenses. In cambio alla Virtus arrivano i classe 95 Filippo Penna, difensore, lo scorso anno in Olanda, e l'esterno Marco Di Benedetto, ex Feralpisalò. Resta in rosso-nero il difensore Leonardo Nunzella. Sul fronte Teramo c'era da definire la comproprietà del col Brescia di Federico Serraiocco. Nessuna busta è stata presentata e il portiere resta con le rondinelle, che erano titolari del cartellino.